Grazie Arturo, buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto il Comitato Torino Finanza non solo per avermi invitato a partecipare a questo incontro ma soprattutto perché mi dà la possibilità di parlare un po' di confidi minori che a torto ragione per molti osservatori erano una specie di oggetto misterioso di cui non si conosceva la consistenza, la numerosità, la patrimonializzazione. Di fatto con un po' di presunzione, se mi la permettete, ho posto la data di attivazione dell'elenco dei confidi minori come una specie di spartiacque in cui un po' di cose sono cambiate. Innanzitutto con l'avvio dell'elenco abbiamo finalmente un numero preciso di quelli che sono i confidi che possono continuare a operare sul mercato. Abbiamo un'idea abbastanza precisa di quella che è la dimensione del sistema, quindi la consistenza anche delle garanzie disponibili per il sistema. E ovviamente abbiamo anche un'idea abbastanza precisa di quella che è la dimensione patrimoniale di questi confidi. Tutto questo grazie anche a un'attività di affinamento, di sistematizzazione dei dati, soprattutto dei dati di bilancio, che è stato realizzato grazie alla collaborazione tra chi all'interno dell'organismo si occupava della fase di istruttoria e coloro che nei confidi facevano da referenti, quindi dialogavano con l'organismo. E questo ha permesso di procedere progressivamente a una ripulitura dei dati, a un miglioramento della qualità che peraltro continuerà anche nei mesi prossimi, perché ovviamente come organismo abbiamo predisposto una soluzione software, un gestionale in cui i confidi potranno caricare direttamente online i loro dati in modo tale da velocizzare tutto il processo e da risparmiare notevolmente anche su tempi e su costi. E questa è un po' quella che è la caratteristica che io definisco dell'organismo, cioè un organismo smart, mi perdoneranno i colleghi del Consiglio se utilizzo un termine non propriamente ortodosso, ma in effetti è un po' quella che è la natura della nostra struttura, una struttura cioè che è basata su un sistema informatico abbastanza sviluppato che permetta di velocizzare e facilitare la trasmissione di dati, ma soprattutto una struttura snella formata da professionisti che garantiscono la propria attività, la propria attività soltanto quando serve e quindi permettono di risparmiare i costi e che permettono comunque un alto livello di professionalità nella loro attività. Questo perché diciamo come obiettivo, come stella polare della nostra attività, noi ci siamo posti di essere non un peso ma un'opportunità per il sistema, opportunità in che senso? Opportunità perché ovviamente un sistema che è vigilato e controllato in cui si garantisce la trasparenza, ovviamente acquisisce reputazione, acquisisce credibilità, accreditamento verso quelli che sono gli interlocutori del mercato, quindi innanzitutto le banche, le imprese, ma anche di fronte agli interlocutori pubblici, in cui ovviamente possono conoscere con precisioni quali sono i confidi che sono autorizzati a operare, ne conoscono la consistenza, ne conoscono anche la solidità patrimoniale, quindi l'affidabilità come interlocutori privilegiati. Ovviamente un ulteriore strumento di accreditamento è quello di garantire l'indipendenza dell'organismo e in questo bisogna dare atto ai colleghi giuristi del Consiglio che hanno predisposto una struttura di governance particolarmente efficace che permetta al Consiglio di gestione, che è quello che gestisce ovviamente l'elenco, determina i contributi eccetera, di avere un'autonomia operativa notevole e al tempo stesso però permette ai vari stakeholder, innanzitutto associazioni e federazioni, di continuare ad avere un ruolo importante nell'operatività dell'organismo in modo tale che possano essere rappresentati adeguatamente tutti quelli che sono i confidi del sistema. Ora passiamo a dare alcuni numeri sintetici sulla consistenza del sistema. Innanzitutto dobbiamo ribadire che questi dati sono dati tratti in larga parte dei bilanci per cui in alcuni casi i dati sono abbastanza ancora scarni e sicuramente meno sistematici rispetto a quelli che ha presentato Diego Bolognese, però d'altra parte permettono già di avere un'idea abbastanza precisa di quello che è il sistema. Innanzitutto vediamo che i confidi iscritti all'elenco sono 178, non ce ne sono più di iscritti nell'elenco 155 tenuto dalla Banca d'Italia ed esistono ancora alcune ultime pratiche che stiamo svolgendo per andare a completare. Per cui vediamo che il quadro complessivo ci parla di 178 iscritti a maggio in cui vediamo 5 regioni che fanno un po' la parte del leone, che sono poi le regioni che tradizionalmente erano quelle con una maggior presenza di confidi anche in passato. Se noi andiamo però ad analizzare quella che è la rete effettiva della presenza dei confidi nelle varie regioni, vediamo che il sistema è tutt'altro che frammentato e diviso da confini molto forti tra regioni o tra settori. Vediamo invece che si è venuta a creare una rete molto diffusa in cui confidi anche molto distanti riescono ad avere operatività nelle varie regioni italiane. In alcuni casi possono essere state operazioni una tantum per cui si è offerto un servizio particolare a questa o quella impresa socia. In altri casi si tratta di attività tipicamente trasfrontaliere. Ma ci sono dei casi non indifferenti, anche significativi, in cui i confidi hanno intrecciato delle reti di attività, delle reti di collaborazione con altri confidi molto importanti. E questo sarà sicuramente un tema da affrontare e da analizzare nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché rappresenta sicuramente un aspetto molto importante e molto interessante che emerge un po' dall'analisi dei dati di bilancio che abbiamo sviluppato finora. Qualche dato ora sulla concentrazione del mercato. Innanzitutto vediamo subito che il mercato è estremamente polarizzato. Vediamo che metà dei confidi di quelli analizzati, qui vediamo che i confidi di questa seconda parte sono quelli analizzati a marzo, quindi sono 167 rispetto ai 178 complessivi dell'elenco. E dicevamo che metà di questi confidi praticamente hanno in portafoglio il 90% dello stock complessivo di garanzie, con una media di circa 25 milioni ciascuno. Il dato interessante è che un quarto, l'ultimo quartile, quindi i confidi che hanno la maggior consistenza di portafoglio di garanzie, detengono ben il 73% complessivo dello stock, per cui un quarto dei confidi detiene tre quarti di quella che è la consistenza complessiva delle garanzie. Se noi andiamo ad approfondire il dato, vediamo una cosa interessante, vediamo che mentre ci sono alcuni confidi che sono estremamente piccoli, che hanno un'operatività limitata al locale e quindi diciamo che in alcuni casi hanno anche una operatività quasi nulla, perché si limitano soltanto a gestire quello che rimane allo stock di garanzia, in altri casi abbiamo dei soggetti che sono di dimensioni notevoli, che sfiorano anche i 100 milioni, per cui definire questi confidi minori appare ovviamente una forzatura, per cui vediamo riflessa in questo slide quella che è la grande differenzazione a livello di sistema, per cui confidi piccoli con scarsa operatività limitati a un'attività locale e confidi di grandi dimensioni che hanno un'operatività anche interregionale e che sfiorano tranquillamente i 100 milioni di euro di consistenza dello stock. Se noi andiamo ad analizzare i flussi e facciamo un confronto con la ripartizione geografica degli stock, vediamo una cosa interessante, cioè vediamo che i confidi del nord appaiono più dinamici rispetto a quelli del centro o del sud. Ovviamente non abbiamo gli elementi per stabilire se questo sia dovuto un maggior dinamismo di questi confidi o se sia invece da debitare al fatto che i confidi del nord sono maggiormente specializzati in finanziamenti a breve termine e quindi hanno un maggior turnove. Il fatto sta comunque che c'è questa leggera discrepanza tra quelle che sono le ripartizioni degli stock di garanzie e quelle che sono invece i flussi di garanzie. Se noi andiamo invece a fare un confronto tra quelle che sono le dimensioni degli stock, quindi andiamo a riprendere la ripartizione in quartili del sistema che abbiamo visto prima, vediamo che sostanzialmente non c'è una grandissima differenza per cui sostanzialmente è più un aspetto geografico che non un aspetto dimensionale che va a incidere sulla differenza di flussi di stock. È interessante comunque dire che i flussi ammontano a circa 620 milioni nel 2019. Ovviamente anche in questo caso il dato va preso come beneficio di inventario nel senso che abbiamo riscontrato alcuni problemi di data quality sia in fase di istruttori nell'organismo sia io quando ho cominciato ad analizzare i dati di bilancio dei confidi iscritti, per cui è evidente che questo dato dei 620 milioni potrebbe anche essere parzialmente corretto, però rende in qualunque caso l'idea di quella che è la consistenza complessiva, per cui abbiamo visto prima 2,3 miliardi di euro di stock di garanzia del 2019, 620 milioni di euro di flusso. Questa è un po' l'idea della dimensione della consistenza del sistema. Vediamo la patrimonializzazione, anche qui assistiamo a una notevole polarizzazione, vediamo che metà del sistema detiene quasi il 90% del patrimonio totale e anche in questo caso il 25% del campione, quindi dei confidi più grandi, più patrimonializzati, detiene quasi il 70% dell'intera patrimonializzazione. È interessante a questo punto fare un confronto tra patrimonializzazione e stock di garanzie, quindi qual è la solidità del sistema per quanto riguarda l'affidabilità e la sostenibilità del business model. Qui abbiamo ripreso un po' quello che è il rapporto tra patrimonio netto, lo store di garanzie, al netto degli accantonamenti e dai contro garanzie, quindi abbiamo ripreso quello che è un po' lo schema utilizzato dal fondo centrale di garanzie. Vediamo che, forse con un po' di sorpresa, che a livello di sistema il coefficiente si aggira intorno al 60%, quindi di per sé è un dato estremamente interessante dal momento che ci fa presumere che questi confidi siano fortemente patrimonializzati, quindi tengano una solidità non indifferente. È vero che anche in questo caso, come vedete, c'è una forte polarizzazione, abbiamo alcuni casi di confidi che hanno un coefficiente interiore al 10% e altri invece che superano il 4.000%, anche in questo caso ci sarà ovviamente da fare qualche verifica a livello di qualità dei dati. Comunque rende bene l'idea di quella che è un po' la ripartizione del sistema. Ovviamente questo richiama anche il tema del business model, quindi sono di più i confidi che tendono al massimo la leva per concedere le più garanzie possibili, oppure sono maggiori quelli che fanno una scelta conservativa, quindi preferiscono utilizzare le risorse per investire e quindi garantire ricavi dei interessi. Può anche darsi che ci sia una terza verità, cioè che una parte dei confidi, per motivi anche di dimensioni del mercato, di dinamiche del mercato, eccetera, non abbiamo potuto utilizzare al massimo le risorse disponibili e quindi gioco forza, sono stati obbligati a utilizzare le risorse che avevano in portafoglio per investire, quindi per garantire comunque una redditività al sistema. Qualche spunto per concludere. Ovviamente i dati che abbiamo presentato sono relativamente scarni perché ovviamente non abbiamo ancora la grande disponibilità di informazioni che è invece utilizzabile per i confidi maggiori, però sicuramente qualche spunto di riflessione emerge già fin d'ora. Innanzitutto il tema del modello di business, quindi sappiamo che i confidi minori di per sé possono almeno al momento soltanto erogare garanzie come attività core. Vedremo in futuro se questa situazione subirà qualche modifica e in che direzioni si andrà. Sicuramente il modello di business è uno degli elementi centrali su cui concentrare l'attenzione e il ragionamento. Allo stesso tempo un altro aspetto importante è l'appettibilità delle garanzie dei confidi minori per gli interlocutori di mercato e innanzitutto per le banche. Confrontandomi anche con altri autori della ricerca e con gli stessi istruttori abbiamo visto che ben il 70% delle controgaranzie ricevute dei confidi minori è riconducibile al fondo centrale di garanzia e quindi in questo senso sono basile compliant. Il dato un po' preoccupante è che solo una parte minorità dei confidi fa utilizzo di questa controgaranzia e quindi può disporre di garanzie che siano a loro volte capaci di abbattere il rischio e quindi il patrimonio di vigilanza a carico delle banche. La questione della trasparenza, sicuramente la trasparenza sul mercato è importante in questo senso il lavoro da fare sui bilanci sarà altrettanto strategico dal momento che affinando i dati qualitativi e quantitativi e permettendo una migliore comprensione della consistenza e anche della solidità patrimoniale dei confidi si avrà sicuramente una maggior accreditamento, una maggior affidabilità di fronte agli interlocutori. Ovviamente sono tutti spunti che immagino verranno trattati ampiamente nelle sessioni successive per cui ringrazio per l'attenzione e rimango ovviamente a disposizione. Grazie mille.